Vettore, io la sto intervistando su personaggi politici, mere, questioni terrene, lei ormai si occupa di ben altro. Io adesso il personaggio che più mi interessa è Papa Francesco. Io mi occupo del Papa. Sono molto amico del Papa. Io, questo problema del Papa, che io chiamo un rivoluzionario e non un mistico, a me sembra talmente fondamentale che devo dire che di Renzi me ne frega. Certo, davanti al mio unico.